Tragedia sfiorata a Castiglion Fiorentino dove una coppia di anziani è finita fuori strada nella zona Ipini, nei pressi di Piazzale Garibaldi. La loro auto ha fatto un volo nella scarpata che si trova sotto il parcheggio, forse a causa di un fatale errore da parte del conducente che potrebbe avere scambiato il freno con l'acceleratore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo che hanno estratto dall'abitacolo un 89enne e un 81enne, entrambi residenti a Castiglion Fiorentino. Per la dinamica dell'incidente sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto si è portato anche il sindaco Mario Agnelli per accertarsi delle condizioni dei due feriti. Non è la prima volta che un'auto finisce nella scarpata in questa zona, era già accaduto nel mese di febbraio. Forse dunque andrebbe recintata e messa maggiormente in sicurezza.